Via libera in commissione riforme del Consiglio regionale al voto elettronico. L'organismo consigliare presieduto da Francesco D'Agostino ha approvato all'unanimità nel corso dei lavori di ieri la proposta di provvedimento amministrativo a firma di Franco Sergio che in un unico articolo introduce il procedimento di voto elettronico modificando parzialmente l'articolo 102 del regolamento interno del Consiglio regionale. La seduta si è aperta con il ritiro di un emandamento da parte di Esposito che ha riconosciuto la qualità della struttura della norma così come concepita dal collega Sergio e annunciando pieno sostegno per l'approvazione definitiva in aula. L'obiettivo ha spiegato Sergio era rendere il voto più trasparente e certificare con maggiore verità la presenza in aula dei consiglieri colmando così al tempo stesso il ritardo nell'adozione di strumenti più moderni ed efficienti. Modificando parzialmente l'articolo 102 del regolamento interno del Consiglio regionale si dà facoltà alla Presidente del Consiglio di far svolgere il voto oltre che per alzata di mano e per appello nominale anche mediante procedimento elettronico nei casi in cui sia prevista la votazione con voto palese. Soddisfatto il Presidente D'Agostino che ha sottolineato come sia stato compiuto un passo importante sulla strada che porta ad un migliore funzionalità dei lavori del Consiglio. Ringrazio il relatore Franco Sergio riferito infatti in aula e i colleghi consiglieri per il lavoro svolto e che mi auguro trovi il suo punto di arrivo con il sì definitivo da parte dell'Aula. Oggi abbiamo approvato la legge 185-10 riguardante il voto elettronico in aula. È stata approvata l'unionalità quindi è stato un passo in avanti per il lavoro del Consiglio e ci sarà più trasparenza e più ordine nei lavori.